Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi e oggi vi spiego come entrare in una di queste guglie della bellissima Ranni Andate da questa parte, usate questo vortice e salite qua sopra sul balcone, qui proprio qui Salite sopra e troverete uno slot di incantesimi E niente, è molto semplice perché io pensavo di sbloccare il sigillo con qualche incantesimo oppure qualcos'altro Invece no, bastava solamente usare quel vortice e salire sul tetto Perché veramente ci sono molte guglie come queste Che uno, non so se lo sapete, ma ci sono delle tartarughe fantasma da uccidere Se le uccidiamo possiamo entrare in una di queste guglie Poi un altro posto è sempre lì ai soborghi dove sta il fiume Sempre lì, dobbiamo sempre uccidere dei tartarughe fantasma e ci fa passare In tutto sono riuscito a raccogliere ben più di 7-8, mi sembra 8 slot di incantesimi Quindi sto anche alla ricerca di altri incantesimi Quindi non lo so quanti slot esistono, non lo so il massimo Quindi spero tanto anche di informarmi e informare anche voi Quindi grazie a tutti per questa visione Lascia like se il video vi è stato utilissimo Iscrivetevi al canale, sto un po' cazzeggiando qua dentro per scoprire se c'è qualcos'altro E niente, grazie a tutti per questa visione Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao